E là, video infrasettimanale questa settimana, molto particolare perché non è preparato, semplicemente andrò a leggere le vostre domande. Perché leggo le vostre domande? Perché avevo lasciato questo particolare post su YouTube in cui vi chiedevo se eravate interessati a conoscere qualcosa di un po' più personale di me e per cui ho fatto questo video in base alle risposte di quel sondaggio e mi avete lasciato delle domande appunto nei commenti, domande per le quali andiamo a dare una risposta oggi. Io quelle domande ancora non le ho lette, le vado a leggere insieme a voi dal mio telefonino proprio quest'oggi, perché spero che non mi avevate fatte domande troppo intime o particolari per le quali io non sappia rispondere. Per cui partiamo con la sigla. Ah no, non ce l'ho la sigla, l'ho tolta. Vabbè, allora eccoci qua, video chiacchiericcio oggi, molto alla mano, un po' come si fa fra gli amici al bar. Vediamo cosa mi avete chiesto quest'oggi e come dicevo prima speriamo che non mi abbiate chiesto cose particolari perché non saprei come rispondervi. Tra l'altro dicevo andrò appunto a leggere domande in linea diretta, però vi lascerò comunque a schermo poi uno screenshot di ogni singola domanda in maniera tale che stia sempre a video mentre io vado a parlare, così si sa almeno di cosa stia parlando. Cominciamo subito. La prima domanda è, lei vive di investimenti? Come ci è riuscito? Esempio di domanda. Allora, prima di tutto grazie a lei, non me lo merito perché sono giovanissimo, ho solo 40, quasi 46 anni, vado per il piede nella fossa. Allora, non vivo di investimenti perché come sa chi segue il canale da tempo, io purtroppo ho cominciato troppo tardi a investire per cui mi trovo con un enorme ritardo. Poi da marzo di quest'anno, 2023, sono anche rimasto senza lavoro e sto cercando di costruirmi un mestiere, tra virgolette come video editor e creatore di contenuti e color corrector per quanto riguarda appunto il montaggio video. Ci sto riuscendo fortunatamente e nello stesso tempo sto anche portando avanti la mia passione su YouTube e in questo caso sto crescendo molto rapidamente rispetto al passato perché mi dedico anima e cuore praticamente tutti i giorni a questa attività. Non vivo di investimenti però lo vorrei fare. Quello che sto facendo in questo momento è cercare di mettere ogni singola briciolina all'interno dei miei portafogli. Sto purtroppo affrontando la problematica che a un certo punto dovrò sicuramente disinvestire qualcosa perché anche mia moglie in questo momento sta un po' a spasso come me, però ci stiamo rimboccando le maniche e un poco alla volta stiamo cercando di raggiungere l'obiettivo che ci siamo preposti e cioè entro l'inizio del 2024 di avere io un'attività che comunque permetta di ottenere uno stipendio e piano piano secondo me ci sto riuscendo e lei di riuscire a trovare un lavoro fisso a tempo indeterminato e anche lei ha degli ottimi spunti praticamente che stanno concretizzandosi e per cui dovrebbe essere tutto, diciamo dovrebbe andare tutto a combaciare. Non vivo di investimenti però sicuramente ricomincerò a vivere per investire da inizio del 2024, per cui come dicono in inglese stay tuned. La seconda domanda, esempio di domanda, chi ha raggiunto i 100.000 euro psicologici? Come ci è riuscito e in quanto tempo? Lo vorrei sapere anch'io, so di alcuni youtuber colleghi che ci sono riusciti e hanno raggiunto questo traguardo come ci sono riusciti con la classica costanza, cioè facendo come le formichine che un poco alla volta rinunciavano a qualcosina, un po' di divertimento magari per mettere quel chicco di grano in più nel loro finile, nel loro basket, nel loro cestino e piano piano sono arrivati i 100.000. E la cosa più bella di quel 100.000 è che quando si raggiunge quella soia psicologica, che è la parte più difficile alla fine, così come anche dice Charlie Munger, poi tutto sembra più semplice perché si comincia ad attivare quell'effetto valanga, quell'effetto palla di neve in cui i soldi continuano a creare altri soldi se ovviamente li si investe in maniera più congrua e in maniera più adeguata, come si può dire, usando il cervello, ecco, usando il cervello. Cosa che io non ho, tra l'altro qui oggi fa un caldo boia, siamo a 42 gradi all'ombra. Però il raggiungimento di questa soia psicologica per me lo vedo un traguardo molto lontano perché ovviamente non avendo più il lavoro, non potendo più ingranare quegli investimenti come facevo quando vivevo in Irlanda, che riuscivo a risparmiare anche il 35% dei nostri stipendi, di quello mio e di quello di mia moglie, ora col bambino e col in Italia questa soia si era un po' ridotta e adesso con due disoccupati si è ridotta ulteriormente. Ma come dicevo prima, da gennaio 2024 spero che tutto vada a cambiare. L'altra domanda, ciao Pasquale, dove investire con gli indici sui massimi che non siano certificati o derivati grazie in anticipo Jacopo? Allora, io sui massimi non investirei mai su niente, indipendentemente se siano indici, azioni, obbligazioni e così via. E non faccio uso di certificati o derivati, l'unica cosa in cui si potrebbe forse puntare questa situazione è quella di utilizzare magari delle opzioni che vadano a copertura di quelli che sono i nostri investimenti, però appunto che siano investimenti e basta. Sinceramente andare a investire sui massimi lo vedo una politica poco remunerativa e molto rischiosa che poi alla fine potrebbe portare un completo cancellamento del tuo patrimonio. Per cui mio consiglio personale, ma poi ognuno faccia con i propri soldi quello che vuole e non investire sui massimi. Passiamo alla domanda successiva di Serena. Ciao Serena, come va? Domanda, quando hai deciso di andare all'estero? Chi ti era intorno? Come hai reagito? Cioè, l'opinione che ne avevano? Sei stato supportato o ti hanno scoraggiato? Quante persone sono venute a trovarvi e vi hanno dato sostegno nella vostra scelta? Domanda numero 2, quando hai maturato e perché l'idea di rimboccarti le maniche e lavorare per la tua libertà finanziaria? Il percorso è come te lo immaginavi? Allora, tutte e due domande, partiamo dalla prima. Prima di tutto nessuno mi è mai venuto conto, in famiglia sono stati molto, diciamo, complessivi. In realtà io sono andato via di casa che avevo già 19 anni per studiare a Roma, sono stato lì un tot di anni, poi sono andato in Inghilterra altri due anni. Ho fatto un altro po' di anni a Milano, sono andato in Irlanda, sono ritornato a Milano, sono ritornato in Irlanda e poi sono ritornato in Italia. Per cui sono stato praticamente un vagabondo quasi per tutta la vita. Per cui diciamo che le prime esperienze sicuramente sono stato più difficili da gestire da parte della famiglia perché ovviamente dicevano questo parte, ma doveva. Poi però piano piano hanno capito insomma che quella era la mia vita e in realtà se io non avesse avuto il bimbo sicuramente avrei fatto qualche altro giretto, ma nulla toglie che quando il bimbo sarà più grande se lui lo vorrà, se vorrà espandere la sua conoscenza e fare delle nuove esperienze all'estero, se dice papà vieni con me, io no non gli dico. Cerchiamo di convincere la mamma in due. Detto questo, diciamo che lo scontro c'è stato un po' all'inizio, nel senso che era più una questione di paura, cioè vai verso l'ignoto, qui sai cosa hai, parli la tua lingua, la lingua della tua nazione, quando vai all'estero no. E infatti io non parlavo l'inglese, anzi mi inventavo l'inglese, quando feci il primo colloquio arrabbattai delle parole quelli e adesso invece sono un C2, per cui riesco a parlare l'inglese con molta fluidità. ho fatto corsi in inglese, ho studiato in inglese, ho lavorato solo in inglese, per cui diciamo l'immiglioramento c'è stato, però ovviamente all'inizio non era così. Mi ricordo la scena particolare in cui il mio primo lavoro all'estero a Manchester, lavorando per una grossa multinazionale nell'ambito dei petroliferi, la seconda più grande che esiste, per cui non faccio nomi ma potreste sicuramente capire, e in quel caso quando mi accolse il custode mi spiegò una serie di cose di come funzionava tutto l'apparato del palazzo perché c'erano tutte le nazioni, lì c'era un centro europeo che gestiva tutte le distribuzioni delle autobotti in Europa e lui parlò per dieci minuti interi e io ero così, non capì niente, zero. Poi me lo feci spiegare. Però ovviamente da lì in poi è stata tutta una discesa perché poi quando ti ritrovi a dover per forza capire, altrimenti non sai cosa da fare e per cui mi sono trovato alla prima casa, ho cominciato a fare le mie compere e tutto quanto. Insomma ragazzi se dovete fare un'esperienza all'estero fatela perché l'esperienza all'estero vi aiuta a crescere non solo nei confronti di tutto quello che vi circonda ma anche di voi stessi. Per cui non ho trovato nessuna opposizione, ho trovato tanta paura da parte di chi mi amava e i parenti, la mamma, il papà, il fratello, sorella, nipoti, sono venuti tutti a trovarci, anche alcuni amici, anche alcuni amici diciamo molto importanti del cuore, alcuni sono venuti al nostro matrimonio, noi ci siamo sposati in Irlanda, il bimbo è nato in Irlanda, infatti ha la doppia cittadinanza, per cui è stato un bel lavorone ma ci siamo riusciti. Per quanto riguarda la seconda domanda, e cioè quando ho maturato è perché l'idea di rimborcarmi le maniche e lavorare per la mia libertà finanziaria, il percorso è come me lo immaginavo? No, il percorso non è come me lo immaginavo, pensavo fosse molto più semplice perché anch'io all'inizio sentivo i vari culo parlare, diciamo fai così, fai il pack, fai quello, fai quell'altro, effetto palla di neve, boom e diventi ricco, non è così, se non ti fai un mazzo così per almeno 30 anni non ci arrivi. Il problema è il cambio di concezione, come la mia mente è cambiata all'approcciarsi al denaro, dove prima era semplicemente uno spendere perché bisognava divertirsi, poi è diventato un capire come utilizzare il denaro e non essere schiavo, ma far sì che lo schiavo sia il denaro nei tuoi confronti. Tutto è cambiato da quando ho scoperto che sarei diventato papà, nove mesi prima alla mia scoperta appunto ho cercato di cambiare un po' l'approccio a tutto quello che era il mondo della finanza, della finanza personale, al risparmio e poi appunto eliminando i debiti e andando a investire proprio perché a quel punto la mia vita sarebbe cambiata e non potevo far sì che tutti gli errori che facevo io dovessero andare a ribaltarsi su una nuova vita che arrivava e che avrebbe potuto patirne le conseguenze per colpa mia. E questo effettivamente mi ha aiutato parecchio. Ultima domanda, abbastanza lunga, leggiamola. Ciao Pasquale, ciao. Dal mio punto di vista c'è stato il canale che nel 2023 ha incrementato di più la qualità rispetto a come stavi portando avanti il progetto e da quello che posso vedere dall'esterno i risultati ti stanno dando ragione. Interrompo un attimo la domanda perché effettivamente è vero. Io sono passato da fare 70 iscritti al mese e adesso sono in una media di 350 al mese. Come hai maturato la consapevolezza della necessità di effettuare questo cambiamento e come hai vissuto la transizione prima, mentre e ora? Sei in cantiere altri progetti e cosa ti spingi ogni settimana a creare nuovi contenuti su YouTube? Un saluto e complimenti. Grazie mille all'investitore nazionale. Allora, questa consapevolezza è nata da quando? A marzo 2023 mi hanno detto bye bye e per cui sarei rimasto senza lavoro. E a quel punto ho detto se non mi rimbocco le maniche, qui il bimbo, chi lo mantiene? Nessuno. Poi perché anche mia moglie era con un contratto a tempo che è scaduto, adesso sta lavorando per ottenere un altro, vabbè, ma quello è un altro discorso, però ovviamente il cambio di qualità è derivato dal fatto che se io non mi fossi mosso in un certo modo sicuramente il canale sarebbe stato ristagnante per un lunghissimo tempo e non avrei provato a fare due cose. Uno, appunto, dare dei contenuti di qualità, cosa che avrei voluto sempre fare ma lavorando full time non riuscivo a fare. Seconda cosa, non arrivare a un certo numero di iscritti per il quale diventi appetibile anche per l'azienda. Ovviamente occorre sempre fare una cernita su quelle che sono le promozioni che vai a creare, però se tu vali zero, anche le aziende che tu vorresti fossero le tue partner non ti vengono neanche a cercare. Mentre in questo caso si è passato da le 250 visualizzazioni a video nelle prime 24 ore a quasi 1000 e dalle 70 persone che si iscrivono ogni mese a quasi 350 di media, cosa che mi ha dato un'enorme soddisfazione e più vedo numeri belli e importanti e più ho voglia di fare meglio, e più ho voglia di approfondire e più ho voglia di creare contenuti diversi. Inoltre il fatto di essermi interessato moltissimo al video editing, alla creazione della cosiddetta storytelling, alla creazione di contenuti sui social, mi ha portato anche a imparare nuove tecniche su come editare i video, su come gestire le luci, su come lavorare quella che è la mia immagine. E questo ha aiutato tantissimo perché prima ci dedicavo pochissimo tempo, non delegavo e se delegavo delegavo male. Adesso invece è nata tutta quella consapevolezza che questo è un qualcosa, un mestiere, se così si può dire che mi piace, e mi piace farlo anche per gli altri, io edito anche per altre persone, sono presente anche su varie piattaforme in cui edito per soggetti stranieri, che ovviamente è molto più bello perché pagano in anticipo e pagano molto di più, però al di là di quello sto creando dei vari flussi di cassa, non solo da questo canale, ma anche da questo nuovo mestiere che mi sto creando, e questa consapevolezza di saper fare qualcosa, non dico bene perché ho tantissimo da imparare, però di saperla fare con passione mi porterà a farla sicuramente bene anno dopo anno. E questo è quello che mi ha cambiato, mi ha cambiato l'approccio e durante questo processo, devo dire la verità, io sentivo un po' quella mancanza di qualità. All'inizio del 2022 avevo cercato di sopperire alla qualità con la quantità, facendo 5 figli a settimana, portava molti più soldini, non cifre esagerate, però comunque quasi il doppio di quello che incasso ora, però allo stesso tempo non ero soddisfatto, ho ridotto le pubblicazioni a due a settimana, adesso non ho ridotto a uno, però vorrei appunto riportarlo a due perché secondo me è il giusto equilibrio, che fa qualità e quantità, da quando finiranno questo periodo vacanziero, comunque secondo me ritornerò a fare due video a settimana, e questo non è un esempio, un video molto chiacchiericcio, che porta contenuti un po' più easy e un po' più facili da recepire. Spero che anche voi dall'altra parte stiate apprezzando questo miglioramento, perché se io cresco e voi vi unite a me in questa crescita, è un qualcosa di comune, è un guadagno comune perché io riesco a trasmettervi delle cose in maniera migliore e chi è finanziariamente non consapevole di quello che fa, delle proprie scelte, almeno in questo modo recepisce dei concetti che possono aiutarlo nella propria vita personale, economica e finanziaria a non fare gli errori che ho fatto io, o comunque se a farli, a mettere un bel paracadute finanziario per evitare che questi errori possano essere deleteri per la propria vita. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, c'erano poche domande, ma domande molto interessanti, e spero di farlo in futuro, se siete interessati ovviamente lasciatemi un commento qui sotto. Ricordo che in questo caso non devo dire nessun disclaimer sui contenuti finanziari, perché non ce ne sono contenuti finanziari, ma l'unica cosa che vi posso dire è che apprezzo tantissimo il vostro apprezzamento, che video dopo video arriva sempre di più, e vi aspetto sempre più numerosi, per cui iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche, lasciate un bel pollice in su che mi fa tanto piacere, e noi ci vediamo domenica per un nuovissimo video. Ciao, a presto!